Domani 7 novembre davanti ai giudici del Tar si deciderà il contenzioso tra il Comune dell'Aquila e la società Express SPA che gestisce lo scalo dei parchi di Preturo. Il 21 settembre scorso come si ricorderà l'amministrazione comunale aveva inviato al gestore un provvedimento nel quale revocava la concessione ventennale dello scalo e dava anche un termine 30 giorni per far cessare ogni attività e per riconsegnare al Comune dell'Aquila anche i locali. Express presentò poi stanza di ricorso e il 12 ottobre il Tar ha concesso la sospensione monocratica fissando appunto per la giornata di domani l'udienza. Il Tar sostanzialmente ha ribadito la necessità di garantire almeno la continuità del servizio tecnico d'assistenza all'elisoccorso del 118 in caso di necessità e per questo sostanzialmente ha deciso di congelare il provvedimento. In Comune comunque il capogruppo di Fratelli d'Italia Giorgio De Matteis ha voluto fare un'interrogazione su questo all'assessore Carla Mannetti chiedendo conto delle azioni posti in essere dall'amministrazione per convincere i giudici oltre le ragioni indiscutibili che giustificano la revoca della concessione ha detto De Matteis della capacità dell'ente di provvedere al servizio sin dal giorno dopo un eventuale pronunciamento favorevole al Comune dell'Aquila. La Mannetti ha garantito che dal giugno 2018 il settore ha avuto più di un contatto con l'Enac per garantire la continuità operativa dello scalo. Se il Tarra dovesse decidere nel senso auspicato dal Comune dell'Aquila l'amministrazione sarebbe pronta detto anche la Mannetti ad assumere la gestione dell'aeroporto dei parchi garantendo innanzitutto il servizio di elisoccorso.